E ora vi dico questo, e ora vi parlo dell'improvvisazione, cioè molti youtubers si credono youtubers perché credono che basta fare un video e sono già tutti youtubers, no sbagliato, bisogna fare cento e centinaia di video, e addirittura quando esci da casa pensare come fare un video, tornare e farlo, è così che si fa meglio youtube.